Sì Lucia, perché in realtà con Donnello riflettevamo che c'è ancora un argomento che abbiamo tralasciato. Capri è un'isola contornata dal mare e nelle immagini che voi state vedendo da stamattina si vedono delle persone che portano a spala il busto reliquiario quasi vestite da marinari, da marinaretti. Perché? Ma diciamo che è un santo che è venuto dal mare, veniva dall'Oriente, stava tornando, si è fermato perché ha visto che c'era bisogno, la gente di mare, il popolo da cui veniamo, noi siamo gente di mare ha bisogno di riconoscersi e San Costanzo si è fatto voler bene dalla gente di mare perché è sempre stato vicino a questa gente e essendo appunto circondati dal mare le tempeste, le invasioni, anche la leggenda racconta di alcuni prodigi che appunto potrebbero ricordare quell'eroe antico che fa riconoscere l'identità del paese e la riunisce. Come diceva nel primo servizio uno dei portatori, la gente di mare cerca un faro e in San Costanzo lo trova. Diamo gli appuntamenti per la giornata di oggi, alle 10 ci sarà la messa solenne? La messa solenne con il vescovo, invece oggi pomeriggio alle 18.30 inizia la processione, scenderà al borgo Marinaro, giù a Marina Grande e poi risalirà per la chiesa di San Costanzo e Maria Santissima della Libera. Quindi noi Lucia per oggi c'è questa processione, non credo che nessuno riesca a venire, c'è un'altra processione, il 19 giusto? 19 sì. Quindi se qualcuno vuole vedere quest'altro lato di Capri, quest'altra faccia di Capri che si stringe attorno al suo santo, il 19 è il momento giusto. Io ringrazio Donnello di essere stato con noi. È stato un piacere, grazie a voi. E per il momento Lucia, a te.